A volte non siamo noi a trovare i sogni, sono i sogni a trovare noi e nemmeno ce ne rendiamo conto. Ti volti e sono solo pezzettini scomposti di stelle nell'aria, come polvere. Il fatto è che non hanno le sembianze che ti aspetti, ecco perché stenti a riconoscerle. Lei, i suoi sogni, li vuole ritrovare? Certo, sarebbe la cosa più bella. Grazie.